Buonasera a tutti amici Rosa Nero e amici in generale di YouTube, amici e fratelli Rosa Nero. E' appena finita Avellino-Palermo, 1-0 per l'Avellino, quindi passa al prossimo turno l'Avellino. Cosa dire di questa partita? Allora, intanto voglio ringraziare questi ragazzi, voglio ringraziare tutta la squadra per averci portato fino ai gironi, fino alla fase nazionale di questi play-off che ci hanno fatto vivere delle bellissime emozioni fino adesso contro il Teramo, soprattutto contro la Juve Stabia dove già molti ci davano per spacciati. Un Palermo che se parliamo di play-off ha poco da recriminare perché l'Avellino è stato superiore. Se dobbiamo analizzare la partita per come è andata l'andata, che tu avevi portato l'1-0 a casa, portandolo l'1-0 a casa questa sera avevi due risultati dalla tua parte contro uno, hai fatto il solito errore che fa il Palermo quando va in vantaggio. Facciamo finta che è partita unica, il Palermo ha finito il primo tempo che sarebbe l'andata 1-0, il secondo tempo, quindi gli altri 90 minuti, il primo tempo di oggi, chiuso in difesa, barricato in difesa, ha fatto giocare solo l'Avellino, era normale che l'Avellino partiva col coltello fra i denti, però tu non riuscivi nemmeno a ripartire in maniera decente. Hai preso un gol veramente stupido, intanto vanno fatti i complimenti all'attaccante dell'Avellino che riesce a tenere due giocatori che lo trattengono, che poi in due nessuno gli sa dare una spallata e lo butta giù, dice, là ci vuole anche un po' di malizia e un po' di furbizia e riesce ad entrare, metterla in mezzo, D'Angelo, palermitano, si trova da solo dentro l'aria, fa 1-0 per l'Avellino. Il secondo tempo il Palermo ha cercato di fare qualcosa, qualcosina l'ha creata, c'è stata una traversa di Canutè, bello il tiro, però se dobbiamo vedere l'azione, tu hai il compagno libero accanto e due dentro l'aria, non devi tirare, se poi ti va bene fai l'Eurogon, il pallone è andato sulla traversa, stato sfortunato, però lì l'occasione la devi creare, non puoi sempre sperare nella giocata balistica, quindi secondo me bella l'azione, bella la traversa, ma l'azione doveva essere creata in maniera diversa. Quindi ripeto, il secondo tempo il Palermo qualcosina ha provato a farla, ma era troppo tardi, perché quando tu hai la fortuna di aver vinto l'andata 1-0, devi tenere il risultato, tenere il risultato non vuol dire che ti devi barricare dietro e spazzare il pallone, no, significa che tu ti chiudi, chiudi le linee di passaggio, aspetti il momento giusto, rubi palla e palla al piede e riparti in contropiede e diventi letale. Il Palermo non lo ha saputo fare, non lo ha saputo fare e quindi io faccio i complimenti all'Avellino, chi ha meritato il passaggio del turno, poi è inutile che stiamo lì a vedere, ah ma stanno sempre a terra, queste sono cose che a questo livello del campionato lo fanno tutti, perché poi c'è l'ansia, la strategia, perdo tempo, guadagno tempo, l'avremmo fatto pure noi se il gol l'avessimo fatto noi, non sarebbe cambiato nulla, quindi non mi attacco a queste cose. Complimenti all'Avellino, io mi auguro che Avellino o Catanzaro vincano questi playoff perché voglio una squadra del sud che vada in Serie B. Come orgoglio meridionale io mi auguro che l'Avellino o il Catanzaro vadano in Serie B perché abbiamo pochissimi rappresentanti, anzi che salgono non ce n'è nessuno perché l'unica salita dal girone C non è nemmeno del sud ma è del centro Italia perché è la Ternana che è in Umbria. Quindi ragazzi, prendiamo le cose positive di questi playoff. Il rammarico sta sul campionato che doveva andare meglio, il Palermo doveva fare un campionato migliore. Per come è andato il campionato abbiamo fatto anche tanto a livello di playoff e quindi complimenti alla squadra che ha dato l'anima con la stabbia e che ha dato l'anima nella partita d'andata che ci ha provato oggi. Però prendiamo le cose positive di stasera, cerchiamo di capire dove abbiamo sbagliato, andiamo a cambiare i giocatori lì dove c'è bisogno con coloro che non sono all'altezza di stare in questa categoria e di stare nel Palermo e cerchiamo di imparare dalle sconfitte per vincere domani. Ragazzi, io su Avellino Palermo non ho altro da dire. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e condividete. Iscrivetevi al canale di Luigi Rosanero che adesso con Just Tiger con cui ho avuto la fortuna di fare la live stasera sul suo canale Twitch. Faremo altre live, parleremo di mercato, parleremo delle prossime mosse del Palermo. Ora si entra nel vivo, tra poco si aprirà il mercato. Entreremo in tutte queste dinamiche, quindi seguiteci, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al canale di Just Tiger. E nel bene e nel male, comunque sarebbe andata, comunque è andata stasera. Mi raccomando, sempre Forza Palermo!